Il tema della milanesiana di quest'anno sono le omissioni, sono uno dei quattro peccati tra l'altro, e quello della nostra serata, il tema di questa sera, sono i numeri. Dunque mi sembrava, da bravo matematico incasellato, che la cosa più ovvia fosse parlare delle omissioni di numeri, cioè dei fatti che si nascondono dietro ai numeri, e qui arriva il problema. Mi limiterò a fare tre esempi che riguardano il passato, il presente e il futuro, così da coprire tutte le parti temporali, visto che le omissioni sono talmente obicue, in realtà le omissioni sono forse la cosa più naturale che si fa quando si parla, da costituire, come dicevo, una delle quattro categorie dei peccati del conflitto, e ora sapete che io sono un esperto di queste cose, insieme ai pensieri, alle parole e alle opere. Allora cominciamo subito con il passato, e l'attenzione ovviamente al passato prossimo va subito al Covid-19, e al suo costo soprattutto, qui c'è poco da scherzare, in vite umane che la pandemia ha comportato. I media e i governi dell'Occidente, del Paese nostri, compreso il nostro, ci raccontano che viviamo in un'area felice, privilegiata del mondo, dove i diritti dei cittadini sono assicurati in teoria e tutelati in pratica, a differenza di altre parti del mondo meno fortunate dalla nostra. Ora, esiste forse un diritto più fondamentale della vita umana? Prendiamo per esempio il famoso inizio della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, nel 1776, che diceva, tutti gli uomini sono creati uguali, e sono stati dotati dal creatore, a parte questo scivolone, di certi diritti inalienabili, quali la vita, la libertà e la ricerca della felicità. La vita è il primo dei diritti che viene citato. La ricerca della felicità è scomparso, non c'è in quasi nessuna delle Costituzioni, compresa la nostra. L'articolo 2, invece, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, visto che noi non siamo americani, anche se sembriamo esserlo, diceva nel 1950 il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Eppure, è la cosa interessante, che se guardiamo al numero dei morti di Covid, ci accorgiamo che le nazioni che si autodefiniscono democratiche ne hanno avuti molti di più delle nazioni che invece noi non riteniamo democratiche. E sono state proprio le nazioni non democratiche, paradossalmente, a tutelare la vita umana più che l'economia. Guardiamo ad esempio gli Stati Uniti. Alla fine del 2021, gli Stati Uniti dichiaravano ufficialmente di aver avuto 800.000 morti per Covid. L'India 500.000, l'India è la più grande democrazia del mondo, perlomeno così si definisce, e la Cina solo 5.000. Naturalmente, tutti dicono, i numeri sono stati sottovalutati, soprattutto in Cina, ma non nel modo che noi potremmo pensare a prima vista, perché un confronto fra i morti totali, questo è il modo che si usa per capire esattamente quanti sono morti durante il Covid e non quanti sono stati dichiarati, è guardare la media dei morti negli anni precedenti al Covid e poi fare il parallelo con i morti che ci sono stati invece negli anni del Covid. E si scopre che in India non ci sono stati 500.000 morti, ma 5 milioni. E negli Stati Uniti non ce ne sono stati 800.000, ma un milione, che è abbastanza di più, il 25% in più. E in Cina, dove uno poteva aspettarsi che ci fosse la menzogna maggiore, non ci sono stati 5.000 morti, ma 15.000, 15.000 che è addirittura il numero di morti che noi avevamo in un giorno, due o tre, sotto il Covid. E tra l'altro in tutta la pandemia si dice, gli Stati del mondo hanno denunciato 6 milioni di morti, ma quelli stimati sono 20 milioni. E quindi a proposito di omissioni di numeri, qui vediamo che i numeri del Covid sono stati completamente omessi, o quasi completamente omessi. Ce ne sono stati purtroppo molti di più di quelli che già ci sembravano così tragici. Guardiamo al presente, che non è tanto più allegro, perché da quattro mesi, lo sappiamo, i paesi della Nato sono coinvolti in una guerra contro la Russia, che viene accusata, è inutile che lo ripeta, di essere una superpotenza militare, con mire espansionistiche globali, vuole conquistare il mondo, eccetera. Eppure, di nuovo, andiamo a guardare i numeri. C'è un istituto a Stoccolma, che si chiama Istituto Nazionale della Ricerca per la Pace, che dà ogni anno i dati aggiornati di quanto si spende al mondo per gli armamenti. Lo scorso anno, il 2022, o meglio, lo scorso anno, il 2021, si spendevano 2 mila miliardi di dollari, è una cifra che persino i matematici fanno fatica a capire, chiunque altro, in armamenti. 2 mila miliardi di dollari. Ora, di questa cifra, se uno va a vedere, il 40%, 800 miliardi, lo spendono, la spendono, soltanto gli Stati Uniti, da soli. E se ci mettiamo insieme le nazioni europee, altri 320 mila, perdono, 320 miliardi, quelli sono il 16%. Significa che noi, che facciamo parte, insieme agli Stati Uniti, Europa e Stati Uniti, del 10% della popolazione mondiale, anche meno, perché il 10% sarebbe 800 milioni di persone, noi siamo circa 600 milioni, eppure 10% della popolazione mondiale spende più del 50% degli armamenti del mondo. E allora è un po' strano andare ad accusare qualcuno di essere una superpotenza militare, eccetera, e di non vedere quello che facciamo noi. In particolare, quanto spende la Russia? La Russia spende il 3% degli armamenti mondiali, 60 miliardi, cioè quasi 20 volte in meno dei paesi della Nato. E allora forse si capisce che la narrazione, le omissioni che ci vengono fatte, forse sono piuttosto radicali. E ciò nonostante, appunto, nonostante queste siano le cifre, negli ultimi quattro mesi di guerra abbiamo assistito a una frenetica corsa agli armamenti dei paesi europei, compreso il nostro. Eppure, noi diciamo, ci dobbiamo armare di più, no? L'Italia oggi, da sola come paese, spende in armi metà di quello che spende la Russia. L'Inghilterra, la Germania, la Francia, tutti spendono come la Russia o più. E quindi, insomma, capiamo che anche qui c'è qualcosa di strano, ma come se non bastasse. Noi ci siamo sdegnati per l'invasione dell'Ucraina, abbiamo fatto bene, perché queste cose non si devono fare e non sono mai cose piacevoli da vedere e da subire. Però l'Occidente, fino all'invasione dell'Ucraina, non ha speso nessuna lacrima e anzi ha partecipato attivamente a invasioni ben peggiori, per esempio l'invasione dell'Afghanistan, che è durata dal 2001 al 2021, e c'eravamo anche noi in Afghanistan, non ce l'hanno quasi mai detto, ogni tanto scoppiava qualcuno e venivamo a saperlo semplicemente di straforo. Poi c'è stata la guerra al terrorismo, per esempio, quella di Bush, vi ricordate, dal 2001. E sapete quanto è costata la guerra al terrorismo? Complessivamente, ai soli Stati Uniti, 8 mila miliardi di dollari, cioè quattro volte gli armamenti mondiali in quattro anni. E ha causato 900 mila morti, secondo un rapporto di un'università americana, la Brown University. Quindi capiamo che forse noi dovremmo leggere più il Vangelo e preoccuparci non tanto della pagliuzza negli occhi altrui, quanto della trave nel nostro. Avevo detto che era un po' nera questa cosa, ma sta per finire. L'ultimo esempio che riguarda invece il futuro, ammesso per essere ottimisti che il futuro ce l'abbiamo, i numeri ci dicono che stiamo facendo tutto il possibile per non averlo, il futuro. Tutti penserete al rischio della guerra atomica, perché c'è stata paventata in questi mesi, ma in realtà verso la quale corriamo, ovviamente a rotta di collo. Però lo scempio del pianeta, per esempio, che noi facciamo con il modo nostro di vita e il nostro modello di sviluppo è ben più pericoloso di una guerra atomica. Anche qui ci sono dei rapporti, quindi non sono ideologie quelle che dico, ci sono i rapporti Oxfam, il comitato di Oxford per il rilievo, diciamo così, la tutela della fame. Ogni anno fanno suonare le campane a morte, come diceva Hemingway, che quando la campana suona, lo diceva prima, John Donne ovviamente, suona per noi, per la speranza che il mondo sia, avviandosi a essere un luogo più umano e giusto. La campana a morte suona per quello, non c'è speranza che il mondo sarà così. Oggi ci sono al mondo 2.500 miliardari in dollari o in euro, che è più o meno la stessa cosa, 2.500 miliardari, forse qualcuno anche qui, 500 dei quali lo sono diventati nei due anni del Covid. Sono pochissimi questi miliardari che hanno queste fortune enormi, eppure il Covid in due anni, che sembrava essere un momento di tragedia anche per le economie mondiali, ha prodotto 500 nuovi miliardari, cioè 25% in più. 20 persone al mondo, 20, quindi un quarto di quello che c'è in questa sala, possiedono la stessa ricchezza di tutti gli abitanti dell'Africa subsahariana, 20 persone. L'1% della popolazione mondiale, in parte ci siamo anche noi, qualcuno di noi qui questa sera, ha la stessa ricchezza del rimanente 99% della popolazione mondiale. Cioè la ricchezza del mondo è divisa in due parti, una parte va all'1% e l'altra parte va al 99%. E il pianeta di cui tanti parlano, soprattutto i ragazzi che fanno i Friday for Future, per fortuna li fanno. Beh, anche qui ci sono simulazioni numeriche, di numeri, che ci mostrano come gli ambientalisti sperano di tornare al consumo, anche questo è un obiettivo minimale, di consumare nel futuro soltanto quanto consumavamo nel 2000, non nel 1950, nel 1900, ma nel 2000. Ebbene, questo è incompatibile con le pretese dei governi e degli economisti di preservare, come invece si vuole fare, un livello di crescita positivo ogni anno. Noi vogliamo continuare a crescere, non capiamo che così facendo non c'è modo di abbassare i consumi. È un rapporto delle Nazioni Unite, il programma per l'ambiente, ci mostra che neppure gli strumenti più arditi della green economy, per esempio fare una supertassa sul carbone, altro che supertassa, gli Stati hanno già cominciato, compreso il nostro, a dire che cominceremo di nuovo a usarla, oppure un raddoppio dell'efficienza energetica, che è un wishful thinking, naturalmente, una speranza, perché come si fa a sperare che l'efficienza aumenti, nemmeno queste misure potrebbero impedire, con il 2-3% di crescita all'anno, di far triplicare entro il 2050 e il livello di consumo che invece si voleva avere nel 2000. In sintesi, per fortuna, finendo, guardiamo al Covid, guardiamo alla guerra, guardiamo al pianeta, ci accorgiamo che c'è un motivo ben preciso per cui i numeri e i fatti vengono omessi e non vengono raccontati né dai media da una parte né dai governi dall'altra. Ed è molto semplice che se la gente venisse a conoscere questi fatti, le armi le imbraccerebbe veramente, ma non per andare a fare la guerra all'estero, bensì per fare una rivoluzione in patria. Grazie. Applausi